Che amici ben arrivati su riflessioni fotografiche il canale dedicato a chi ama la vera fotografia la vera fotografia nel senso fatta dalle persone e per le persone lo diciamo sempre in questa epoca di intelligenza artificiale Roberto anzi di deficienza artificiale come la definisco io insomma parlare di fotografia e il piacere anche di fotografare di sperimentare eccetera è sempre un grande piacere insomma è per questo che è nato questo nuovo canale magari ci avete conosciuto su promiros che ovviamente siamo presenti anche in promiros è sempre il nostro canale però abbiamo voluto distinguere un po le attività di divulgazione insomma i contenuti tra i due canali allora inauguriamo Roberto la rubrica imparare guardando i mestri della fotografia sul canale riflessioni fotografiche con un autore e ci abbiamo pensato abbiamo scelto erano un po un po indecisi e poi alla fine la scelta è stata univo è stata sì è stata assolutamente condivisa su us ernest ass perché perché ragazzi secondo noi questo grande fotografo incarna perfettamente il concetto di fotografia e di fotografo cioè come colui che vede quello che gli altri non vedono quello che le persone normali diciamo tra virgoletti non fotografi non vedono perché questo non perché abbia delle doti stratosferiche in questo caso di ass sicuramente aveva un occhio incredibile non è neanche una persona paranormale no esatto è una persona semplicemente che sapeva vedere come vede la macchina fotografica e sfruttava le caratteristiche se vogliamo anche i limiti della macchina fotografica o della pellicola utilizzata ma insomma ne parleremo durante il video per creare delle opere incredibili e con la propria visione soggettiva no anche perché è un passaggio quello di imparare a vedere con la macchina fotografica è un passaggio principale uno dei passaggi basilari e di fatti nel corso composizione fine art l'abbiamo messo come primo capitolo appunto perché se non capisci e non sai come vede la macchina fotografica di fatto sei ceccato questo è un po' il succo del discorso allora detto questo entriamo nel merito del video roberto non a caso as leggo una frase che mi ha molto colpito no dice la fotocamera non fa la minima differenza tutte possono registrare ciò che stai vedendo ma devi vedere non so se siete ricorda una frase top lui la scimmia non ce l'aveva la scimmia le prendeva abbastonate col monopiede le abbastonate tutte le scimmie o poi in realtà ci aveva una like perché sì però non è che cambiava la macchina esatto esatto insomma acquistato bene una volta poi aveva avuto anche la rollefax ma insomma il concetto della frase è assolutamente vera nel senso che tutte le macchine ma veramente ma guarda ci stavo pensando l'altro giorno che come sai sto rimettendo a posto il sito stavo guardando un po le foto fatte durante i nostri matrimoni e così via praticamente mi sono reso conto dico cavolo qui c'è un po tutta la mia storia di macchine fotografiche e con tutte ho fatto degli scatti che reputo appaganti quindi effettivamente la macchina fotografica conta ma da un altro punto di vista quello che conta veramente è imparare a vedere cioè vedere cose che gli altri non vedono interrompo un attimo il video per ricordarti una cosa importante prima di tutto iscriviti sul canale fallo adesso e spunta anche la campanellina in modo da rimanere aggiornato e ti ricordo anche che in descrizione lascio i link ai nostri corsi di fotografia online ma che possono essere scaricati sul tuo computer quindi li puoi vedere a questo punto senza limiti di tempo anche offline il corso dallo scatto alla stampa fine art dove ti spiega tutte le informazioni le nozioni chiave per arrivare ad una stampa di qualità sia a colori che in bianco e nero il corso appunto dedicato al bianco e nero per ottenere immagini dal look analogico il corso dedicato alla composizione fotografica con strategie base e tante strategie avanzate utilizzate dai mestri della fotografia il corso dedicato al flash quindi tutto ciò che c'è da sapere per gestire al meglio il flash e la luce in sostanza artificiale il corso dedicato all'esposizione allo sviluppo e sfruttare al 100% il potenziale della tua attrezzatura va in descrizione trovi link e li troverai nelle pagine presentazione tutte le informazioni che ti serviranno roberto poi c'è anche un'altra cosa che mi colpisce di asse che secondo me è un tema su cui vale la pena riflettere perché lui diceva dimmi cosa ne pensi di questa frase esistono due tipi di fotografi quelli che compongono le immagini e quelli che le scattano i primi lavorano negli studi per i secondi lo studio e il mondo per loro l'ordinario non esiste ogni cosa nella vita è una fonte di nutrimento che ne pensi la capacità di un fotografo è quello di come abbiamo detto all'inizio di vedere attraverso il mezzo fotografico che sia la macchina pellicola che sia la macchina digitale che sia adesso magari mi ficcherò la griglia negli occhi che sia anche un cellulare l'importante è sì anche un cellulare ormai andiamo avanti no l'importante è vedere attraverso questo nostro mezzo fotografico sì guarda hai detto hai toccato un tema allora sul discorso della frase è quello di due fotografi secondo me è assolutamente vero perché sono dei fotografi sono molto molto bravi in studio ma poi non sanno vedere la fotografia documentandola appunto così accogliendola poi AS non ha fatto tanto fotografie di documentazione ha fatto più fotografie di sperimentazione sono un pochino più surreale diciamo come tipo di approccio più creativo quantomeno più che surreale quindi è il fatto che veramente io credo che sia vero quello che ha detto AS che esistono due tipologie diverse di fotografo io ad esempio come tu sai faccio molta fatica e studio per me non è il mio ambiente naturale lo studio io la foto la vedo e la devo immortalare quindi sono più una persona che va a caccia di anzi io dico sempre sono mi sento più un cercatore di funghi o di oro no cioè nel senso più o meno so dove possono crescere prendi Damiano lo molli in un bosco e lui è contento io sono contento ma anche anche in generale insomma il bosco è il mio ambiente preferito però in generale Roberto cioè veramente il mondo anche durante i matrimoni tu come sai io continuo a muovere eccetera cerco le scene interessanti poi le racconto cioè te ti giri un attimo Damiano dov'è? e sono scappato via e ci sono invece fotografi che vivono all'interno dello studio e ci sono invece fotografi che vivono all'interno di un'altra Uno stimolo secondo me che ci dà la fotografia di As è quello della sperimentazione, sperimentare, sperimentare, sperimentare. Questo è un input che dico anche a me stesso perché io mi sento molto vicino al tema delle reportage, della narrazione, del racconto in senso quasi come forma di scrittura. In realtà As era molto vicino anche all'aspetto un pochino più pittorico, un pochino più creativo, però va benissimo sperimentare. Lui arrivava lì, documentava, poi andava al passo oltre e utilizzava varie tecniche, ma utilizzava la sperimentazione per esprimere il suo punto di vista. Infatti lui parlava, Roberto, di destrutturarsi, cioè per capire chi sei come fotografo devi cercare di essere il più possibile te stesso. Più sei te stesso, più ti vai a destrutturare e più riesci a avvicinarti alla tua vera fotografia, quella che più ti appartiene. Questa è una cosa molto importante perché noi facciamo vedere, Roberto, tanti autori all'interno del canale, poi i nostri amici scopriranno tanti autori, ma l'idea non è tanto quello di andare a scimmiottare l'autore, ma è quello di trarre degli stimoli e capire e dire ok questa cosa qua sento che mi appartiene, cioè come se fosse un vestito, io faccio sempre questo esempio, tu ti metti una giacca, magari non te la senti tua, poi ti metti una camicia oppure un altro, una maglietta eccetera e ti sente tuo agio. Ecco quindi, vivete queste puntate per conoscere il lavoro degli autori che è fondamentale, per settare un po' la mente a un certo standard, ma poi al tempo stesso capire un po' chi siete come fotografi. Sì, cominciare guardando i grandi fotografi, parlando di fotografia, vivendo e respirando di fotografia, andare a accendere quegli interruttori che tutti bene o male avevano nel cervello per far partire tutto il meccanismo. È vero che noi maschietti abbiamo due bit, però due bit alle volte sono anche sufficienti, no? Quindi abbiamo tutti delle grandi potenzialità, sicuramente, e accendere i punti giusti. E queste lezioni, chiacchiere, riflessioni su questi stimoli, sono proprio a cercare di andare a accendere, come ha detto Damiano, guarda questa cosa però, e questo è un piccolo clic, clic dopo clic qualcosa si ricava, no? Guardando la fotografia di us, ma non solo, è una cosa che mi piace tantissimo, ragazzi, della fotografia, è come con di fatto tre variabili, perché parliamo dei tempi di scatto, parliamo di profondità di campo, insomma, diaframma, parliamo di ISO, quindi con tre elementi che sono la base dell'esposizione fotografica, praticamente le combinazioni sono infinite, cioè quando noi facciamo i corsi, Roberto, quante volte tu sei nello stesso punto, siamo uno a fianco all'altro, eppure la foto non è mai uguale. E questa è una cosa pazzesca, una cosa bellissima della fotografia, cioè il fatto della soggettività. Assolutamente, la tridisposimetrica, la famosa tridisposimetrica su cui abbiamo fatto, vai a vedere i nostri corsi, no? Tantissime elucubrazioni mentali, sia nei corsi online, che puoi scaricare, ovviamente, vederli quando vuoi, sia durante i nostri corsi, è una potenza immensa che ha nelle mani un fotografo. Quindi, puoi interpretare, oltre a inquadrare, oltre a comporre l'immagine in un certo modo, la capacità di andare a giocare con questi tre parametri, oltre chiaramente pellicola e bianco e nero, pellicola e colori, poi c'è pellicola e pellicola, può cambiare completamente quello che è l'impatto che può dare un'immagine. Assolutamente sì, e infatti, ragazzi, lo stimolo è provate a giocare con questi elementi. E' una cosa che, ad esempio, come diceva Roberto, spieghiamo durante i corsi, ma anche durante il corso online su esposizione Fine Art, noi parliamo del bracketing creativo. Che cos'è il bracketing creativo? Molte persone utilizzano il bracketing, cioè quello di fare più scatti, variando, diciamo, un tempo di scatto. L'esposizione a forcella, dai. La vecchia esposizione a forcella. Molte persone, invece, non sanno che oggi non è tanto l'esposizione, perché sono un'esposizione alle macchine fotografiche, poi oggi con il mirrorless è un tema piuttosto relativo, anche se poi in realtà sappiamo che il 90% delle persone è sempre incredibile, ma non ha capito fino in fondo che cosa è l'esposizione nella fotografia digitale, ma questo è un altro discorso. Comunque, tornando a noi, di come invece utilizzare il bracketing creativo, cioè cambiando la profondità di campo, cambiando il tempo di scatto, per fare un esempio, aumentare o diminuire la luminosità, dà delle opportunità, delle possibilità creative enormi. E questa cosa, guardate, che lo fa non solo a us, eccetera, ma soprattutto fotografi contemporanei come Kenna lavorano tantissimo su questo, a volte su un soggetto, Kenna, scarica un rullo da 12, cioè un rullo da 120 mm. Praticamente, che cosa fa? Cambia, fa tanti scatti, cambiando la tria di esposimetro, cambiando semplicemente la profondità di campo, cambiando il tempo di scatto e lavorando un po' con la sperimentazione. Quindi, quando siete di fronte al soggetto, non limitati semplicemente a fare lo scatto, questo va bene, siamo a posto, abbiamo risolto. Sperimentate, cambiate il tempo di scatto, a volte molto più lungo, molto più breve, cambiate la profondità di campo e possono nascere cose veramente inaspettate. Sì, poi quando andate a osservare i vostri scatti, magari vi si aprono gli occhi su un tipo di scatto, di esposizione, di momento che avete preso e lo potete apprezzare poi successivamente e riapplicare poi gli scatti successivi. Quindi è una sorta di autoapprendimento. Autoapprendimento. opa ahí. Riapplic girata. Riapplicando. Poi un altro stimolo che abbiamo parlato in diverse riflessioni fotografiche sul fatto dell'attrezzatura fotografica Ernest Haas ha utilizzato diversi strumenti come avveniva all'epoca però lui a un certo punto si è molto concentrato sul 35 mm in particolar modo utilizzando sia la Codacrom che l'Ectacrom due pellicole un po' diverse adesso magari possiamo anche parlare un attimo utilizzava il 35 mm ed è un fotografo che ha utilizzato molto anche il teleobiettivo Roberto lui diceva che era soprattutto zoomando con i piedi il vero miglior obiettivo erano i piedi come spesso si suol dire però utilizzava il teleobiettivo non so che ne pensi non penso che l'abbia utilizzato per una sorta di timidezza nel poter fotografare i propri soggetti ad una certa distanza ma secondo me fa proprio parte della sua cultura nella sperimentazione anche perché l'obiettivo, la grande differenza a parte la distanza di lavoro e la prospettiva che cambia completamente quindi la compressione dei piani è un altro approccio anche perché in quegli anni non è che veniva utilizzato tanto il teleobiettivo di solito si lavorava con il 28, 35 e il 50 50 era già una focale lunga sì è vero lui chiaramente col teleobiettivo quindi l'angolo di campo eccetera lavorava ovviamente con i tempi lunghi quindi ha lavorato e fa stato uno dei pionieri perché noi una cosa che molti ragazzi a volte sentono mi dicono ma sta foto insomma ne vedo tante a parte insomma parliamone comunque a prescindere da quello cioè noi ragazzi oggi vediamo delle foto che sono anche il frutto del background accumulato negli anni ma voi provate a immaginare cioè parliamo di ormai parecchi anni fa quando la fotografia colore tra l'altro era un linguaggio completamente nuovo tutti scattavano in bianco e nero era considerata la fotografia seria insomma anche un po' questo senso di ribellione di anticonformismo da parte di Asse non solo anche perché scusa chi fotografa a colori partiva quasi già battezzato marcato come un fotografo di serie B eh sì in parte sì e poi il fatto di utilizzare un linguaggio sperimentale in un'epoca che era veramente molto basata sulla documentazione pura quindi sono immagini chiaramente rigorose sì esatto e lui invece sperimentava con dei tempi con il mosso che poteva essere fatto allora tramite tecniche di panning tramite muovendo la camera tramite tempi lunghi insomma ci possono essere veramente tante tante sperimentazioni che poteva andare in un'epoca l'altra cosa Roberto che mi fa impazzire è che è uno stimolo che vogliamo dare ai nostri amici io non so se insomma lo condividi l'hai letto penso nel pensiero l'importanza del nero assolutamente perché è vero che Ernest Hans è un maestro del colore ma molti non capiscono che le radici spesso della bellezza diciamo delle foto a colore nasce proprio dal nero un po' come se fosse una sorta di hummus sì l'HDR per Asso non sarebbe esistito ma i neri fanno danno quella tridimensionalità all'immagine e quella drammaticità chi non apprezza una foto con dei bei neri pieni ma veramente piedi non dico zona 1 ma zona 2 tanto per parlarvi di tecnica ma anche zona 0 anche zona 0 di Ansel Adams non dovete avere paura non deve avere paura di avere dei neri troppo chiusi la fotografia deve essere bilanciata ma aiuta tanto quella che è la composizione e appunto la profondità le quinte è poesia per me sì ma guarda Roberto lo vediamo spessissimo io lo vedo anche durante le consulenze quando si fanno il lavoro di post produzione tante volte post produco per altre persone io vedo sempre questi neri aperti queste ombre super aperte questi nel bianco e nero poi non ne parliamo bianco e neri che sono o iper iper contrastanti quindi mezzi toni scompargono io l'ho detto parecchie volte oppure un grigio piattume unico un grigio piattume o viceversa vedi equilibri tonali che non funzionano cioè un'immagine in controluce praticamente quello che è in controluce risulta super luminoso è quello che è dietro scuro cioè è una roba che non ci può stare comunque vabbè un altro discorso magari affrontiamo in qualche fototips morale della favola ragazzi il tante volte si parla della gamma dinamica eh ci abbiamo troppo poca gamma dinamica ma Ernestas lavorava con un cappero di Codacrom che aveva 5-6 stop sì cioè ok l'Ectacrom nientanto ne aveva 6-6 e mezzo poi dipende quale quale pellicola Ectacrom e quale pellicola Codacrom ma insomma giravamo intorno ai 5 dai 5 ai 6 stop ragazzi niente ma sfruttando tra virgolette le caratteristiche non i limiti della pellicola è riuscito a fare delle cose straordinarie e a tirare dentro immagini con dei neri profondissimi facendo squillare le alte luci le alte luci i colori perché perché giocava con la luce perché ancora una volta la fotografia di Ernestas come tutti dei grandi fotografi attinge alla luce cioè l'elemento l'ingrediento chiave ragazzi è sempre la luce e cioè il gioco di chiaroscore questa è una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare che non ci dobbiamo mai qualche altro concetto che mi è venuto in mente guardando le fotografie che vanno a diciamo a completare la figura del fotografo la figura del fotografo ovviamente poi ragazzi questi sono stimoli se volete studiate approfondite prendete dei libri insomma dell'autore sull'importanza di capire quali sono gli elementi strutturali della composizione e che funzionano a prescindere dallo stile ad esempio parlo dell'uso delle sagome delle forme che in as funziona molto abbinato tra l'altro a un uso pazzesco del colore quindi il colore diventava sagoma diventava forma giocando con i volumi con i colori con le ombre con i neri lo scattare non è uno scattare istintivo uno scattare è sempre ragionato basandoci appunto su regole basilari è chiaro che poi lui è nato molto più in là e difatti è rimasto un fotografo è un fotografo che ha fatto storia perché è riuscito ad andare oltre quello che è la foto comune sì c'è c'è questo sempre di attriba tra l'istinto e in qualche modo la ragione io credo che lui sia arrivato a un approccio tra virgolette istintivo nel senso che è andato in profondità del proprio io come fotografo poi c'era tanta sapienza ragazzi perché la scelta di un tempo la scelta di un mosso la scelta di sapere vedere un colore che funzionava l'uso della luce eccetera questo è tutta competenza guarda chiudiamo Roberto con ultimo stimolo tante volte sento persone diciamo ma sai io non vivo in un posto particolarmente fotogenico non posso viaggiare andare in Congo per fare delle belle fotografie oppure in India in realtà ragazzi ora è chiaro che dipende da genere e genere dipende anche dal proprio modo di concepire la fotografia però Ernest Hasse ci insegna anche una cosa importante che ovunque ovunque possiamo trovare stimoli fotografici e creare delle immagini incredibilmente belle io vorrei chiudere Roberto con una frase che a me ha colpito molto di Ernest Hasse che dice non sono interessato a fotografare cose nuove sono interessato a vedere le cose in modo nuovo che secondo me riassume un po' tutto quello che ci siamo detti ragazzi fateci sapere cosa ne pensate di questo autore di quello che abbiamo detto aggiungete il vostro contributo perché ripeto è una community e quindi c'è uno scambio circolare vi ringraziamo per i minuti che avete dedicato a questo video iscrivetevi al canale spuntate la campanellina se ancora non l'avete fatto e se volete in descrizione lasciamo i link ai nostri corsi di fotografie ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao